e con noi l'avete appena ascoltato il tenore angelo goffredi benvenuto un tenore di fama internazionale so che la tua carriera è lunga e so anche che ci sono dei progetti in cantiere così c'è un debutto nuovo per me una novità nella carriera per un cantante insomma un debutto sul set cinematografico perché l'amico giuseppe aquino regista romano amico anche di don sergio mercanzin che voglio salutare in questa occasione mi ha voluto sul set di questo nuovo film che si intitola un uomo buono viaggio di sola andata che è la storia la biografia di san pietro chanel insomma e quindi interpreterò un mio alter ego dell'ottocento un tenore ottocentesco in una delle location che sceglierà giuseppe aquino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti